Il viaggio lento è un'idea che è partita tornando da un viaggio più lungo, ovvero il mio spettacolo portato in giro per tutta l'Italia ma non nella mia terra, a un certo punto ho deciso di dargli questa possibilità di viaggiare anche all'interno del mio territorio, ma a passo un po' più lento. Per dare un input alle persone, a tirare un freno a questa modernità sempre più sfrenata e un po' restituire la vera figura del Cantastorie, che girava per l'appunto con l'asino in piazza, da piazza in piazza raccontando fatti, cunti, leggende. Arrivau, Lucan da storie, Arrivau, Lucan da storie, Arrivau. Io ti posto gente che arriva a Lucan da storie, che va da contare tanti fatti belli, Arrivau, Lucan da storie, Arrivau. Il Cantastorie è una figura della cultura tradizionale, che girava di piazza in piazza, da raccontare fatti, cunti, leggende. E' un viaggio lento che è iniziato il 15 giugno dall'arcipelago Sagarote di Diamante, per finire non si sa quando, ma si sa perché. E' riscoprire il gusto delle cose, rallentare per sfuggire al disordine della realtà attuale, che disorienta, confonde, frastorna. Viaggio a Cardi, la sua amica asina Genoveffa, che porta gli strumenti, ed altri allegri compagni di viaggio, sta percorrendo il territorio calabrese del Parco Nazionale del Pollino, alla ricerca della Calabria scomparsa, di quel mondo rurale, cantato solo nelle canzoni della tradizione, che il cantastorio intona la sera, nelle piazze che lo hanno visto arrivare di buon'ora, dopo un lento e lungo cammino. Sì, circunnavigo il Pollino, fermandomi nelle piazze dei paesini, quelli più caratteristici, quelli che hanno una location più interessante, e propongo questo spettacolo, che ha il titolo di Cantu e Cuntu, dove trae alcuni brani e racconti dalla tradizione, poi alcune suonate fatte con la lira bizantina o l'ira calabrese, chitarra, tamburo, voce, organetto in alcuni momenti. Storie di vita passata, leggende e tradizioni della nostra terra, accompagnate dal suono di antichi strumenti popolari calabresi, spesso con riferimenti alla vita quotidiana reale, si intrecciano con le gioiose voci dei bambini, che impazziscono nel giocare con Genoveffa. Figura artistica tra le più affascinanti della scena musicale e teatrale cosentina, Viaggio Accardi, musicista e conoscitore esperto di strumenti tradizionali, è un cantastorie fuori dai canoni. Il mio è un lavoro di un cantastorie un po' particolare, non uso i cartelloni classici, ma trasformo quello che era raffigurato sui cartelloni attraverso l'azione scenica, utilizzando in alcuni momenti anche la maschera della commedia dell'arte. Con il progetto Viaggio Lento e con lo spettacolo Canto Cuntu, l'artista dunque, il cantastorie, racconta, spostandosi da un luogo all'altro, la storia di un popolo e di una terra, la Calabria, attraverso la rappresentazione di un mondo quasi immaginario, che sembra scomparso, assorbito dal vortice di un progresso che porta solo un falso benessere, mentre vanno perdendosi quella semplicità, quegli antichi valori, quei sapori e quelle tradizioni, che egli fa rivivere con la sua musica, con la sua voce e con i suoi compagni di viaggio. Fino adesso c'è stata una risposta eccezionale. C'è il pubblico di solito arrestio quando vede un semiprofessionista, diciamo così, nel senso che il palco ha ben allestito le luci, però sul palco non c'è il grande nome, allora la gente crea un distacco. Non succede invece con questo spettacolo di cantastorie, perché è un contatto diretto. C'è Roberta Vigiani, che è una zooantropologa, che lavora da tempo con gli asini, si occupa di onoterapia, petterapi, è un po' un nuovo modo di rivalutare questo animale, l'asino, che con l'avvento della tecnologia della benzina è un pochettino stato bistrattato, però riesce a trovare un nuovo ruolo in quelle non proprio terapie, però una mediazione tra il bambino o il disabile che si approccia all'animale quindi attraverso questa nuova disciplina che si chiama onoterapia per l'appunto. Il protagonista è Genoveffa, di sicuro, un'asina di otto anni che è stupenda, non ha problemi di nessun genere, gli manca solo la parola, diciamo. E poi un altro compagno di viaggio è mio figlio che ha otto anni e che fa parte un po' del disegno del cantastorie che girava con a seguito la parole per trasmettere il mestiere. Quindi ho voluto anche cogliere questa immagine dei vecchi cantastorie, come ora mi riferisco a Orazio Strano, a Ciccio Busacca, grandi cantastorie che giravano per l'appunto con nell'asino la Calabria, le Pui e la Sicilia. Un viaggio nei ricordi, intrecciato di racconti epici, di vecchie storie e di leggende che appartengono ad un tempo in cui la musica fatta di antiche melodie cullava l'uomo bimbo e rendeva magiche le fiabbe che gli venivano raccontate. Così come le pene d'amore, i sospiri, le speranze, le fatiche del lavoro, la rabbia e l'oppressione dei popoli. Il cantastorie tutto racconta, canta e cunta, di piazza in piazza, di via in via, di paese in paese, per ritrovare quell'incanto, quella magia che solo una vecchia tradizione espressa in musica può far rinascere. Donoghidi, Donoghidi Donoghidi, Donoghidi Donoghidi, Donoghidi, Donoghidi Uno, due, passe der Campanelli San Francisco, dicimi lo che ti l'ha detto, ti l'ha detto la più bella, la più bella è chiuta a Roma, a pigliare la corona, la corona di lo re, uno, due, passo e tre. Gallinella toppa-toppa, quanti pinne tieni in goppa? E mi tieni ventiquattro, uno, due, tre e quattro. E dongidiidi dongido, dongidiπumidi dongido Dongidi capidino, eccoci voliti birth E dongidiidi dongido, dongidi cuci dongi do Dongidiidi dongido, eccoci voliti birth